E' del 25 giugno la prima seduta di insediamento del Consiglio Comunale dell'amministrazione guidata dal sindaco Domenico Mantegna di Benestare che ha vinto la recente elezione amministrative con uno scarto di oltre 300 voti. Al suo secondo mandato Mantegna è nell'alveo dell'amministrazione comunale da ben tre lustri, oltre ad essere consigliere della città metropolitana. Numerose le autorità militari e civili presenti alla seduta di insediamento, tra di loro il vice sindaco della città metropolitana Carmelo Versace e il consigliere della Metrocity Giuseppe Marino. Un'amministrazione in parte rinnovata ma che vede i suoi capisaldi in Pietro Brancatisano, vice sindaco in Antonio Caminiti, assessore con delega all'ambiente e in Simona Musolino, eletta presidente del Consiglio. Nessuno sarà escluso però dall'amministrazione guidata da Domenico Mantegna perché anche i consiglieri verranno assegnate delega importanti al fine di proseguire il lavoro iniziato cinque anni fa. Iniziamo questa nuova avventura amministrativa oggi pomeriggio con questa cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio Comunale qui di Benestare dopo una importante e intensa campagna elettorale che ha visto quindi la squadra da me rappresentata primeggiare con un risultato davvero molto molto importante, quindi grande fiducia da parte del popolo benestarese e siamo qui per iniziare quindi quello che è i nostri obiettivi, il nostro programma politico-amministrativo per poter dare quelle risposte che la nostra comunità, i nostri cittadini, la nostra gente si aspetta. Quindi iniziamo, sono contento, c'è una grande partecipazione della nostra gente, l'avevamo chiesto di starci vicino, abbiamo tante idee in itinere e siamo fiduciosi che riusciremo a dare un maggiore impulso alla crescita economica, sociale e politica del nostro Paese attraverso una serie di progetti strategici che alcuni sono stati già avviati, sono già partiti, altri sono in itinere. Quindi ritengo che ci siano tutti i presupposti per fare bene.